Il Consiglio di Amministrazione di Banca Etruria, preseduto da Giuseppe Fornasari, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012. Il gruppo ha mantenuto un ruolo attivo a supporto delle aree di insediamento, chiudendo il primo trimestre con un risultato positivo coerente con le attese del piano industriale. Il margine di interesse si è attestato a 53,6 milioni di euro, meno 3,4%, mentre le commissioni nette a 24,4 milioni di euro, meno 3,1%. Tra gli altri dati che spiccano il margine di intermediazione a 91,4 milioni di euro, più 1,3%, i crediti verso la clientela attestati a 7,7 miliardi di euro, meno 1,4%, la raccolta diretta a 8,6 miliardi di euro, più 9,6% e quella indiretta a 3,7 miliardi di euro, più 3,1%. Infine i costi operativi pari a 55,1 milioni di euro, meno 2,3%. I risultati del primo trimestre confermano come il nostro istituto abbia mantenuto il livello reddituale, adeguando rapidamente le politiche gestionali e i cambiamenti di contesto, ha dichiarato Luca Bronchi, direttore generale di Banca Etruria. Raccogliamo in questi mesi anche i risultati di ulteriori azioni per rendere più efficace la struttura organizzativa e la rete.